5.000 euro il monte premi per il torneo fit di beach tennis al centro a storia che per una tre giorni che si è conclusa ieri si è trasformato in un'arena. Sono stati invitati a partecipare tutte le categorie per giocare sui 12 campi da tennis beach tennis messi a disposizione. Oltre a chi pratica lo sport in modo agonistico sono stati invitati anche gli appassionati in un torneo amatoriale parallelo. Partner dell'evento ASA Associazione Federalberghi e Consorzio di Promozione Turistica Lidi di Chioggia. Entrambe le associazioni in questo inizio estate stanno elargendo cospicue risorse nei vari eventi che si stanno realizzando, rendendo tangibile la loro presenza alle iniziative che possono portare risalto alla località turistica. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS e revisione a cura di QTSS a cura di QTSS